raga prima di parlare di un obiettivo sfumato che però più di essere stato un obiettivo del milan era un mio obiettivo un giocatore che secondo me se veniva al milan ci avrebbe fatto fare un grande salto di qualità voglio unirmi e voglio unire tutto il mio canale a cordoglio per la morte di carlo mazzone un uomo vero un uomo dal grande cuore un uomo generoso un lavoratore una persona onesta come pochi in questo mondo del calcio di oggi ci sono un un uomo senza peli sulla lingua quindi davvero è stata una notizia che mi è dispiaciuto perché io forse me lo ricordo nella scena che mi è piaciuta di più di tutto di questo allenatore a Bergamo dopo il gol del 2 a 2 quando è andato a esultare sotto la curva un grande davvero un grande ieri il campionato ci ha detto cose importanti abbiamo visto un napoli veramente devastante nel secondo tempo soprattutto che non si è fatto prendere dal panico dopo il gol del vantaggio dal frosinone su calcio di rigore e ha imposto il suo gioco con un victor rosimè devastante un giocatore immenso quando è in campo uno come victor rosimè difficilmente puoi perdere le partite quello che ho sempre detto io questi giocatori da soli ti risolvono una partita e victor è uno di questi quindi un napoli brillante dove l'unica cosa che non ho capito è la scelta di lasciare in panchina anghissà risposta da grande squadra la data all'inter e anche qui con un lautaro martinez strepitoso già già in versione gole ad oro in questo campionato sarà una grande sfida con victor rosimè anche lì quando hai questi attaccanti che ti risolvono la partita diventa tutto più facile un un inter brillante l'ho già vista in grande condizione con un giocatore visto che avete pianto in mille interisti un giocatore come turam che a fine campionato vincerà il pallone d'oro sì come no detto questo ora la palla tocca alla juventus stasera e a noi domani oggi ci sarà la conferenza stampa di stefano pioli uno stefano pioli che ha in mano una rosa rivoluzionata e ha addosso una pressione micidiale questo è davvero il suo milan secondo ciò che ha detto la dirigenza il presidente è un milan costruito con stefano pioli quindi un pioli che ha delle grosse responsabilità su questa squadra una squadra che è costruita per vincere raga cioè le ambizioni di moncada e furlani sono quelle di aver dato un milan a stefano pioli secondo loro secondo loro perché secondo me non è così già pronta per vincere quest'anno il campionato quindi ci mettono tutti la faccia io sono davvero curioso di sentire la prima conferenza stampa di mister stefano pioli lo voglio carico lo voglio davvero combattivo e non voglio piagnistei cioè io voglio un allenatore che dice dobbiamo vincere a seconda stella è tuo questo milan e tu devi dimostrarmi quello che vali quello che sai fare e come valorizzerai questa rosa fatta comunque da grandi campioni perché ciuquezza e pulisicloftucic renders che ha detta di capello è forse uno dei pochi giocatori che gioca in verticale non fai passeggini laterali e se un allenatore come capello elogia un giocatore come renders qualcosa vale il milan che non ha finito il calcio mercato si parla ancora di dominguez visto e anche se non dovesse essere ceduto ma anche perché il milan ha un grosso problema a centro campo indipendentemente da crunic se dovesse farsi male uno tra loftucic e renders tu hai solo pobega musa e ad li che però non rientra nei piani del milan ed è un peccato qual è il colpo secondo me l'attaccante svanito che secondo che ci avrebbe fatto fare il salto di qualità uai uai era un sogno è un giocatore formidabile che una squadra che punta a vincere doveva andare subito a prenderlo 19 anni una squadra come il milan che punta sui giovani valorizzarli per poi sicuramente rivenderli a un grande a con una grande plus valenza non poteva non finire su uai e non me ne frega un cazzo di quanto l'ha pagato il lens cioè non è andato al manchester city è per quello che dovevamo assolutamente provarci e vedrete quanti gol farà anche quest'anno un giocatore di grande talento uai e mi è spiaciuto un sacco visto le lacune davanti che abbiamo dove segnano in serie a grandi campioni ma non di 80 anni come l'autario jimè e sono convinto che se prendevamo uai avremmo fatto un grande salto di qualità ora vediamo quello che l'accoppiata furlani e moncada faranno ma non può essere azimun lì come cazzo si chiama il giocatore del bayern leverkusen un giocatore che nello zenith san pietroburgo era una macchina da gol 72 partite 58 gol fatti 28 anni una autentica macchina da gol ma che nel bayern leverkusen ha fatto cagare che non entra nei piani del bayern leverkusen ha fatto cagare perché ha anche avuto un sacco di problemi fisici a noi serve una certezza non ci servono sti giocatori qua perché noi dobbiamo fare il salto di qualità se vogliamo vincere il campionato dobbiamo fare il salto di qualità il salto di qualità te la fa fare una punta che nelle giornate negative gli basta un cazzo di pallone e te la spara in porta questo serve al milan e quindi mi aspetto molto di più vediamo ci sono ancora ballano ancora i nomi di bojan di e chitiche soprattutto il giocatore del celsi sembrerebbe il il favorito numero uno nelle scelte di mister stefano pioli però è tutto da vedere raga come ho sfottuto l'inter per arnautovic che peraltro ieri ha fatto un'ottima prestazione cioè se mi sfottono per azmun fanno bene perché andiamo a prendere veramente un chiodo dopo dopo allora io vi dico andiamo a prendere un chiodo se poi fa 20 gol sono il primo a essere contento ma oggi non è il giocatore che io vorrei nel mio milan avrei tanto voluto huaie avrei tanto voluto oilund non sono arrivati raga si vede che il milan ha fatto altre scelte sull'acquisto di 100 mezzali sempre forza milan ci vediamo stasera dopo la partita da juventus stasera dopo la partita da nuova